Denisa Gollino, qual è il filo conduttore di questo nuovo spazio del Trentino all'Expo? Il filo conduttore è dato dal titolo Trentino Fist the Heart, inoltre il cuore, e si è voluto fare una grande metafora, una grande sintesi del Trentino, attraverso il video, il video firmato da Gianluigi Toccafondo, un grande illustratore italiano, che rappresenta quindi gli ambienti, la storia, i personaggi, i prodotti del Trentino, e poi appunto una grande metafora che viene anche data al visitatore dello stand, in un concentrato, che saranno appunto le caramelle tipiche del Trentino, ovvero le tirele. Gli spazi interni come sono organizzati? Allora, gli spazi interni sono divisi in un'entrata, quindi di accoglienza, dove appunto si può raccogliere la brochure istituzionale, una breve presentazione del Trentino, e anche un cadeau, una cartolina ricordo, appunto dei frame più belli del video di Toccafondo. Si prosegue nello spazio Librerie, dove si può avere un suggerimento del mondo del bosco, del Trentino, il sottobosco, con anche appunto le caramelle e le tirele, che vogliono essere appunto questa grande metafora del Trentino, per poi passare nel corridoio, dove si vede nella più totale ampiezza il video di Toccafondo, per arrivare nell'ultima sala, che invece si approfondisce il Trentino attraverso le parole del suo mondo del food e attraverso video appunto che parlano del suo aspetto enogastronomico, ma anche culturale, ma anche della ricerca e dell'innovazione.